Tutto pronto è Countdown che segna meno 4 a Crotone per gli europei di vela della classe Optimist presentati nel corso di una conferenza stampa con la quale è stato illustrato il programma delle regate dunque della manifestazione sportiva vera e propria e delle iniziative collaterali. La cerimonia di apertura si svolgerà sabato prossimo alle 18 con la sfilata degli atleti iscritti provenienti da ben 46 paesi che partiranno dal villaggio allestito al porto turistico per giungere fino in piazza Gramsci dove dopo l'alza bandiera ci sarà uno spettacolo di danza e verranno dichiarati aperti i campionati. Il team manager del club verico Crotone Claudio Perri ha anche preannunciato una sorpresa della quale però non ha voluto svelare i dettagli. Le regate prenderanno il via domenica prossima. Fino a giovedì tutti pronti sin dalle 9 anche se poi sarà il vento a decidere quando inizieranno le sfide in acqua. A proposito del vento, le previsioni per la settimana degli europei sono buone che vuol dire che anche dal punto di vista dello spettacolo le garanzie sono sufficienti. Quelle offerte dalla macchina organizzativa invece sono eccellenti. Al porto già si respira l'aria del grande evento, si susseguono gli arrivi delle squadre ed inglese e spagnolo sono ormai diventate le lingue più parlate. Per il presidente del club Francesco Verri gli europei rappresenteranno un punto di partenza nel senso che in futuro l'offerta base di Crotone sarà questa. Quello degli europei rimane uno standard, cioè le prossime regate avranno questo format e quindi si comincia in realtà così, si continuerà così. Le regate dovranno avere questa caratteristica e quindi il 14 alle 18 inauguriamo quello che rimane stabilmente in occasione degli eventi, è ovvio, il Crotone Sailing Stadium. Il guai se segregassimo la manifestazione del porto turistico o la chiudessimo a mare per quanto il mare possa essere ampio e il golfo possa essere vasto. In realtà vogliamo che questa notevole massa di turisti circoli per la città, la conosca, la viva e quindi usi il suo cuore commerciale, i visiti i musei, quello di Crotone, quello di Capocolonna. Vogliamo che conoscano Santa Severina, Isola Caporizzuto, Le Castella, che sia una regata della città ma anche della provincia e persino della regione. Li invitiamo a visitare i bronzi di Riace, a fare un'esperienza mediterranea, calabrese. E quindi li invitiamo a conoscere la Calabria per com'è e non la Calabria delle minoranze criminali o dei cattivi maestri che l'hanno ridotta anche sul piano della comunicazione in uno stato che non è il suo. È una Calabria bellissima con persone meravigliose che unite in uno sforzo corale come in questo caso possono fare la fortuna di questa terra e la fortuna del sud Italia.